Come sarà organizzata la serata che vi vedrà attori principali all'Acropoli? Sì, la serata di venerdì 7 ottobre inizierà alle 20.30 per concludersi alle 23.30 circa. Ci sarà dapprima una visita all'interno del museo dove troveranno i partecipanti una vetrina simbolicamente vuota in attesa di una serie di reperti le cui immagini saranno proiettate all'interno del museo che sono stati rinvenuti in Acropoli e che oggi non sono più a Gela per cui speriamo di riaverli presto proprio in esposizione e poi ci sarà una visita in Acropoli che è stata eccezionalmente tra l'altro pulita per cui vi sarà una passeggiata muniti di torce all'interno sia dell'abitato che comunque del resto dell'Acropoli che di solito appunto è visitabile guidati appunto dagli archeologi. Ricordiamo che l'iniziativa è completamente gratuita, chiunque può partecipare. Sì, chiunque può partecipare, portate anche i bambini, ovviamente appunto munitevi di scarpe comode perché si tratterà di una passeggiata all'interno anche di aree che di solito non sono appunto visitabili e tra virgolette cocalpestabili. Di conseguenza scenderemo a gruppi, ci saranno appunto tutte le guide a disposizione e penso che sarà insomma un'emozione per tanti e anche una vista diversa comunque delle nostre aree archeologiche. L'obiettivo se vogliamo, Giorgia Turco, è quello di valorizzare il territorio scoprendo la Gela Segreta, la Gela Antica. Sì, gli obiettivi di Gela Segreta che ormai appunto è un format potremmo dire sono proprio quelli di far vedere soprattutto ai cittadini, quindi a chi vive costantemente questo territorio di farlo appunto vivere in modo completamente diverso, inedito, con occhi diversi e soprattutto nel caso comunque delle aree archeologiche che spesso appaiono un po' distanti diciamo da quello che può essere la nostra percezione, farne comprendere il valore e riappropriarsene in modo appunto anche fisico di questi luoghi che devono entrare a far parte della nostra vita. Ricordiamo, venerdì, alle? Dalle 20.30 alle 23.30, portate torce e scarpe comode.